Buongiorno a tutti. A questione anche di opinioni, è vero che magari abbiamo fatto una partita di sofferenza nel primo tempo, sono d'accordo, ma forse dovuto anche al fatto che avendo la linea alta volevamo ripartire subito in transizione e colpire gli dietro le linee. A volte ci poteva stare l'azione, a volte non riuscivamo ad uscire bene, ma più che la reazione sul gol magari qualche volta abbiamo sbagliato a livello tecnico. Per il resto, ripeto, contro una buona squadra ci siamo comportati come ci dovevamo comportare. A volte eravamo troppo bassi forse nella linea dell'area grande, ma capitava che qualche volta come eravamo pronti rubavamo palla in transizione, ripeto, regolavamo colpirli dietro questa linea di difensori molto alta. Sì, quando avevo parlato anche di questo con i ragazzi. Quando ci bloccano il tre di davanti alla difesa è chiaro uscire con gli esterni bassi. A volte ci provavamo, altre volte non ci veniva bene l'azione. È chiaro che con i due difensori centraveri dovevamo prendere campo soprattutto nella tre quarti nostra, non tale che potevamo svolgere i nostri movimenti e le nostre azioni. Ogni qual volta Carcione era ingabbiato dalla squadra avversaria. Ci abbiamo provato, non ci è venuto sicuramente come dite voi la giocata importante, anche se a mio parere tre o quattro volte ci siamo presentati che non è il limite dell'area. Quindi, nonostante sia stata una parete di offerenza, nonostante questa squadra sia in rodaggio, dopo un mese passa di lavoro, con giocatori nuovi, devo prendere soprattutto ciò che è positivo e che è negativo. Se dovessi pensare alla sconfitta, se dovessi pensare a tutto questo che mi stai dicendo voi, certo la salita è lunga. Però io non mi abbatto, non mi abbatto perché devo vedere il bicchiere mezzo pieno. Il bicchiere mezzo pieno sono quelle forse poche isolate azioni o momenti e fasi di gioco dove noi comunque abbiamo detto la nostra anche davanti alla porta avversaria. Ma non credo che della corte sia stato catastrofico. Può darsi che eravamo un po' distanti tra i reparti, non è solo il singolo, io non giudico mai il giocatore, anche perché ripeto, io e i miei ragazzi fatti i complimenti perché vedo, devo vedere soprattutto ciò di che positivo è stato fatto. Se poi è capitato con questi lavori in ampiezza sui calci e perdevamo l'uomo, questo è un altro paio di maniche. Comunque non credo sia stata una giornata disastrosa per chi perde e perdere la corte. Se si va in difficoltà si può anche andare in difficoltà per l'amor di Dio, però il ragazzo ha espresso quello che doveva esprimere, che ha dato, ha spinto, ha messo le palle in mezzo. Ripeto, magari con un po' più di tecnica si poteva fare meglio, per il resto non giudico la prestazione. I tempi sono quelli che sono, nel senso che la pagamese di Mattecano si vede in un'altra parte, quando l'intero gruppo è amalgamato, è omogeneo ed è pronto ad affrontare situazioni tecnico-tattiche. In questo momento, ripeto, noi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, abbiamo trovato una buona squadra che a volte ci ha messo in difficoltà, ma questo è il campionato di Serie C. I tempi, chiaramente, in Lega Pro non devono essere lunghissimi perché voi sapete che in campionato, a parte non corto, però partire magari con un maluccio significa poi rincorrere dopo e non è facile, non è mai semplice. Preferivo partire magari col chiede giusto per continuare a lavorare su queste situazioni che tu mi hai detto. Al momento, purtroppo, siamo in corso d'opera e cercheremo di fare i più punti possibili nel momento in cui l'intera rosa è pronta e a disposizione, soprattutto i profili. Nonostante abbiamo parlato in poc'anzi di situazioni a livello tattico, purtroppo abbiamo magari fatto l'errore col singolo più che con il gruppo. Ripeto, ci può stare nel calcio, in Serie C sbagli uno la paghi, questo lo sappiamo tutti. Ma io non ti ripeto, non condannerò mai il singolo giocatore, perché se c'è un problema lo deve risolvere l'allenatore, con i ragazzi durante la settimana. Se poi questi incidenti avvengono, purtroppo, vince chi sbaglia a me. Noi magari oggi abbiamo fatto qualche ero raccio a livello singolo e abbiamo perso la partita. Nonostante magari il Bisceglie abbia creato qualcosa in più rispetto alla Paganese, ma ripeto, la Paganese si è presentata davanti alla porta, quindi sotto questo punto di vista posso essere contento. Adesso capite il mio stato, adesso capite che lo stato d'animo di un allenatore dopo una partita del genere è particolare, quindi non è che va avanti pensando che il mercato chiude giovedì e chiede chissà cosa la società. Io ho un gruppo di ragazzi, per me è favoloso, li difenderò fino alla morte. Se questa è la squadra e se giovedì non dovremmo prendere niente, noi continuiamo a lavorare, perché si è detto, squadra è in rodaggio, sei giocatori sono arrivati nel giro di 15 giorni, diamo tempo anche a questi ragazzi, diamo tempo all'allenatore di poter esprimere. Dopodiché diamo i giudizi insieme che vogliamo. Per quanto riguarda il mercato, forse questa domanda la devi rivolgere ad Antonio Bocchetti e io forse al Presidente, alla società. Posto, grazie a voi.